Come avete visto il 23 dicembre uscirà una nuova serie Alcune curiosità è formata da 4 episodi E il mondo e la skin sono stati scaricati da un'applicazione Quindi non sono fatti da me L'uniche cose fatte da me sono le riprese Quelle le... Sarà un po' Sarà un po' silenziosa Sì, però è perché Così, ci andava così E in verità non c'era niente da... In quei momenti in cui sarà silenzioso Non c'era niente da doppiare Né niente Questa sera sarà la serie